Non una commemorazione, ma un momento gioioso per stare insieme nel suo nome, così come a lui piaceva fare nel tempo libero su un campo di calcetto. E così si è arrivati alla quinta edizione del Memorial un gol per Gianluca. Nel centro sportivo area sport di Monticchio, il 10 giugno, comogliallo, la famiglia e gli amici di Gianluca si ritroveranno nel suo nome, sul campo che tra l'altro è intitolato proprio a lui. Dalle 10 in poi ci sarà il torneo di calcio a 5 maschile, al massimo saranno 10 le squadre ammesse, ci saranno anche premi per le prime tre classificate, per il miglior portiere, capocannoliere del torneo e premio fair play. La novità è che per tutta la giornata ci saranno anche giochi e intrattenimento per i più piccoli grazie a Ludobus, nel pomeriggio il circo di Pongo e spettacoli con i clown, per i più grandi il DJ set. Il ricavato della giornata andrà alla Ollus un gol per Gianluca a sostegno dei bambini. Gianluca Civitelli lavorava infatti con i più piccoli, con i meno fortunati e così si è scelto di proseguire in qualche modo quello che lui amava fare aiutando chi ha bisogno. Il sorriso di Gianluca oggi rivive così, attraverso gli occhi di Sara e di Anna Marte, attraverso l'aiuto prezioso che questa Ollus riesce a dare per non dimenticare chi nel suo lavoro aveva fatto anche una missione.